Un piano Marshall di oltre 250 milioni di dollari per far rifiorire la cristianità irachena. Alla Lateranense l'iniziativa promossa dà aiuto alla Chiesa che soffre. Sostenere e coordinare l'azione delle diverse Caritas nel continente africano è possibile. All'indomani del secondo incontro dei presuli locali ne abbiamo parlato con il professor Martin Cafu, direttore dell'area internazionale di ricerca della PUL. Promuovere lo studio e l'approfondimento del diritto canonico, celebrati i cento anni del primo codice di diritto canonico. Con l'Assemblea Generale dei Docenti ha ripreso le sue attività il nostro Ateneo. L'apertura dei lavori è affidata al Cardinal Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che ha parlato delle università pontifice e delle sfide del momento attuale. Un giornalismo di prossimità che esca dalle redazioni e vada oltre l'emergenza per raccontare le storie e le rinascite dei territori. L'obiettivo del XII Forum dell'Informazione Cattolica per la custodia del creato. Servire l'Università Lateranense, i suoi studenti e i suoi docenti, con lo sguardo proiettato verso la divulgazione esterna. Marco Cardinali, direttore della Lateran University Press, parla dei progetti futuri della casa editrice della PUL. Ben ritrovati nel nostro spazio informativo della Lateran TV. Lo avete sentito dai titoli di apertura nei giorni scorsi, nell'aula più un decimo della PUL, si è tenuta la conferenza internazionale intitolata Iraq, ritorno alle radici. Nel corso dell'evento è stato presentato il progetto di ricostruzione di 13.000 case danneggiate o distrutte dall'ISIS nei villaggi cristiani della Piana di Ninive. Si tratta di un vero e proprio piano Marshall, il cui costo stimato è di oltre 250 milioni di dollari e il cui scopo è riportare le famiglie cristiane di quell'area nelle loro abitazioni abbandonate a seguito dell'aggressione dei jihadisti. La conferenza, presieduta dal presidente internazionale di ACS, il cardinal Mauro Piacenza, ha ospitato tra gli altri il segretario di Stato, cardinal Pietro Parolin, monsignor Martino Ortega, nunzio apostolico in Iraq e Giordania, e il patriarca caldeo di Babilonia, Luis Rafael Saco. La Santa Sede ha sempre appoggiato la causa dei cristiani in Iraq, ne sostiene rientro nelle loro terre e case, chiede il rispetto dei loro diritti. La presenza dei cristiani è fondamentale per un Medio Oriente stabile e plurale. Purtroppo, tale presenza diminuisce progressivamente a causa di coloro che partono in cerca di un futuro migliore. Lo ha detto il segretario di Stato, cardinal Parolin, aggiungendo che i conflitti degli ultimi anni stanno mettendo a rischio la presenza dei cristiani come luogo di convivenza di popoli, di etnie e di fedi diverse. Cambiamo argomento. Si è concluso con un rinnovato impegno a sostenere e coordinare l'azione delle diverse Caritas e il secondo incontro dei Vescovi dell'Africa, ad esse dedicato e incentrato sul tema organizzare il servizio della carità in Africa. Il ruolo, ovviamente, è quello dei Vescovi, importante. Il simposio si è chiuso nei giorni scorsi proprio a Dakar. Siamo in Senegal. La nostra Chiara Tranquilli ne ha parlato con il professor Martin Cafu, che è il direttore dell'area internazionale di ricerca SISCA. La Caritas diventa per la Chiesa in Africa lo strumento, l'amico di tutti i giorni, di tutti i poveri, i cosiddetti poveri, o resitali. Ma quali sono le misure che loro prendono? Quali sono le cause? Dove stanno queste crisi? No, bisogna anche fare questo. Le crisi sono tanti. Chiamiamole le crisi per modo di dire che ci sono diverse situazioni in cui vivono le popolazioni che da una parte può chiamare povertà, da un'altra può essere mancanza o sottosvolupo, quelle che volete voi. Cominciamo l'educazione, la prima delle cose. Le persone sono educate o no. Tante scuole, il 80% della formazione del cittadino africano è in mano alla Chiesa, la Chiesa cattolica. Perciò non è poco questo. Perciò l'educazione è appunto primaria. Con l'educazione si sconvigono tutti gli altri eventuali crisi quando ci saranno. Secondo, la salute. La salute. Chi non sta bene non pensa, non può vivere. E ci sono tante cause della malattia. Uno, mancanza di acqua, potabile. Dicono che il 70-80% delle malattie vengono dall'acqua non potabile. Quindi è un problema. L'energia. L'Africa ha solde, ha tutto. Basterebbe un'energia solare per risanare tutta la successione di tutti, ma non ce l'hanno. Poca gente ha accesso alla luce elettrica. Il cibo, l'alimentare. L'Africa è una miniera di bene naturale. L'agricoltura è il tutto per l'Africa. Chi non produce l'equatore e l'acqua subsaeriana è proprio l'acqua dell'Africa della produzione alimentare, dell'agricoltura. Ma guarda a caso, non hanno possibilità di sviluppare, di trasformare il loro prodotto primi, il loro prodotto originale in prodotti finiti per accedere così a un mercato dove si può sfamare, ma sfamare in modo corretto. Quindi abbiamo da mangiare e moriamo di fame. Questo è un problema. La Chiesa si fa uno con tutte queste situazioni. La Chiesa non è distaccata dal popolo chiesa, da una parte il popolo da un'altra. Sono le stesse persone che si chiama Chiesa, che si occupa... Il nostro Ateneo ha ospitato nei giorni scorsi il XVI Congresso Internazionale sul diritto canonico della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici promuovendo sul tema diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917 è un'occasione preziosa per riflettere sulla necessità del diritto ecclesiale. Adriano Ciambella ne ha parlato con Luis Navarro che è presidente della Consociatio e rettore della Pontificia Università Santa Croce. Le prospettive che si aprono, anche lo diceva il Papa nel messaggio che ha inviato al Congresso, in fondo sono prospettive che aiuterebbero a un'applicazione più adeguata del Concilio Vaticano II. e in concreto far sì che nella Chiesa si viva meglio la giustizia. C'è un punto che è emerso più o meno in tutte le relazioni, anche vedendo le relazioni di taglio storico, ma anche quelle con prospettive per il futuro della Chiesa in un contesto secolarizzato, eccetera, e che ci vuole una formazione giuridica canonica di primo ordine all'interno della Chiesa. Se quella formazione è garantita ai fedeli, ai pastori, la Chiesa diventerà veramente uno specchio di giustizia per tutto il mondo, sarà un modello di giustizia per tutto il mondo. E penso che sia una sfida molto bella che vale la pena accogliere. Con l'Assemblea Generale dei Docenti ha ripreso le sue attività la Pontificia Università Lateranense alla presenza del Cardinal Giuseppe Versaldi, che è prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica. È intervenuto sul tema le università pontifice e le sfide del momento attuale. Anche nell'anno accademico 2017-2018 l'Ateneo conosce un lusinghiero successo di iscrizioni e negli ultimi dieci anni è divenuta una realtà dinamica a misura di giovane e dal respiro internazionale con studenti provenienti da 105 paesi, oltre 200 originari di 20 nazioni e più di 40 sedi in tutto il mondo. Da sempre, infatti, la Lateranense si è distinta per il suo impegno nella ricerca, nella formazione teologico-filosofica e delle scienze canonistiche, ma costituisce soprattutto un unicum tra gli Atenei Pontifici Romani per la sua facoltà di diritto civile. A questo si aggiungono le molteplici iniziative e i progetti che, solo nell'ultimo anno, hanno consentito a più di 200 giovani di viaggiare in tutto il mondo. 12 per lui, il primo Erasmus della fede che ha permesso ad alcuni di loro di raggiungere le periferie del mondo e di confrontarsi con culture e situazioni sociali diverse. Poi c'è la Summer School, in paesi esteri come l'Australia, il Cile, l'Argentina, oltre che lo studio e approfondimento delle lingue straniere in Inghilterra, Francia, Spagna ed Emirati Arabi Uniti. Durante l'Assemblea sono stati presentati i nuovi statuti della Lateranense approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 6 giugno del 2017. I nuovi statuti giungono al termine di un lungo cammino iniziato da Monsignor Rino Fisichella e proseguito e concluso grazie allo straordinario impegno di Monsignor Enrico Dal Covolo. Iniziare a fare sempre di più un giornalismo di prossimità che esca dalle redazioni e vada oltre l'emergenza per raccontare le storie e le rinascite dei territori. E' questo l'obiettivo del dodicesimo forum dell'informazione cattolica per la custodia del creato promosso dall'associazione culturale Green Accord Ollus. Si è svolto a Gubbio in occasione della giornata mondiale del creato e la nostra Marina Tomarro ne ha parlato con il presidente Alfonso Cauterucci. Ascoltiamo. Cosa vuole raccontare questo dodicesimo forum? Il forum si inserisce nella giornata nazionale del creato quindi fare in modo che il nostro muoverci il nostro cammino sia sempre più in sintonia anche con il creato con i luoghi che attraversiamo con coloro che ci vivono. Viaggiatori e pellegrini sulla terra cosa vuol dire questo dodicesimo forum? Ho tanti giornalisti provenienti da tutta Italia qui a Gubbio per riflettere sul tema del viaggio del cammino. innanzitutto la comunicazione post emergenza e di prossimità e poi per riflettere proprio sul tema del cammino e del turismo sostenibile per rendere sempre di più i camminatori dei veri e propri viaggiatori e non turisti gente capace di interagire con il territorio di saper ricogliere l'essenza di saper vivere in sintonia in armonia con il creato. In questo caso si parla di un giornalismo itinerante che non è dietro le scrivanie di una redazione ecco allora che cosa vuol dire questo nuovo tipo di fare giornalismo andare incontro alle persone? È l'essenza del giornalismo quella di andare personalmente a verificare i suoi luoghi i fatti come sono avvenuti senza pregiudizi e quindi andando con un atteggiamento proprio sgombro e soprattutto non sovraccarico di pregiudizi per avvicinare le persone per capirne e viverne le loro storie e cogliere l'essenza dei fatti in maniera diretta Nata ufficialmente nel 2001 per creare nuovi metodi di studio e di ricerca la Lateran University Press è diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento presente il futuro della casa editrice nell'intervista realizzata da Adriano Bellucci con il direttore Marco Cardinali Ci sono nuovi progetti per quanto riguarda pubblicazioni in futuro in corso? I progetti sono continui diciamo che la casa editrice pubblichiamo circa 80 dai 40 fino agli 80 dal volta titoli l'anno e sono titoli che ripeto hanno a che fare con l'università quindi materiale di studio ma anche come dicevo prima questa attenzione alla divulgazione esterna quindi con opere che possano essere anche fruibili da persone non addette ai lavori o non così addette ai lavori non specializzate nelle nostre materie e quindi abbiamo creato anche le collane che possono essere di aiuto per tante tematiche odierne sfide culturali e religiose odierne dibattiti che oggi sono importanti per tutti quanti e anche collane che possono essere di non so ad esempio di meditazione di approfondimento anche spirituale questo è anche importante per noi che possa essere di aiuto all'esterno grazie direttore era l'ultima notizia del nostro rotocalco vi ringraziamo per averci scelto perché quello che succede nell'università del papa ci teniamo a farvelo sapere alla prossima a farvelo sapere